Il Fiscal Compact è stato approvato nel 2012 da tutti gli stati membri dell'Unione Europea, salvo Regno Unito e Repubblica Ceca. Contiene una serie di regole d'oro che sono vincolanti per il bilancio economico di ogni singolo paese. Il termine Eurobond indica l'emissione congiunta di titoli di Stato garantiti da tutti i paesi dell'Eurozona. Lo scopo è trasformare il rischio individuale dei singoli paesi in rischio collettivo. In politica europea la Troica è un organismo di controllo informale costituito da rappresentanti della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale. Si occupa di elaborare piani di salvataggio per i paesi in difficoltà all'interno della zona Euro. Nato come un semplice fondo finanziario, il meccanismo europeo di stabilità oggi è più simile a un'organizzazione sul modello del Fondo Monetario Internazionale. Emette prestiti ai paesi indebitati della zona Euro, ma a condizioni molto severe.